Comincerà il 4 maggio la sedicesima edizione del Festival Tulipani di Seta Nera, il racconto cinematografico della diversità, della fragilità e dell'unicità delle persone al centro delle opere selezionate. Leonardo Metalli. Il Festival internazionale della cinematografia sociale si arricchisce di una piattaforma realizzata da Rai Cinema Channel. Tulipani di Seta Nera apre dal 4 al 7 maggio a Roma per scegliere le migliori opere in concorso. Testimoni al Claudio Agerini e Marco Giallini. Sostenibilità e anche temi sociali è un cinema diverso ma sempre importantissimo. Sì, un cinema che rappresenta la nostra società. Abbiamo visto che si toccano le tematiche più disparate dalla disabilità all'emarginazione sociale o alla non accettazione, tantissime. Questo festival è meraviglioso perché a 360 gradi sostenibilità, inclusione, diversità eccetera e dà la possibilità non soltanto di parlare di questi argomenti molto importanti e intensi ma anche la possibilità a nuovi registi, a nuovi autori, a nuovi attori di affacciarsi o quelli consolidati di affacciarsi sul mondo dell'arte. Arrivano circa 600 opere nei diversi formati, quindi cortometraggio, documentario, social clip e digital serie. Poi grazie alla sensibilità di Rai Cinema che ha messo a disposizione questa piattaforma che è Rai Cinema Channel. Il cinema deve veicolare contenuti profondi, deve veicolare tematiche importanti, sociali, di inclusione e deve essere sensibile anche nel nostro cinema di servizio pubblico.